e ciao anima bella sono sempre Elena di Elena Tionetti Life Coach www.idablanchet.com e oggi è il 14 febbraio San Valentino la festa degli innamorati ma prima di tutto la festa dell'amore se soffri di dolore pelvico questa ricorrenza potrebbe non essere così amorevole per te un scritto di getto un post sul blog in cui racconto anche parte di una mia vicissitudine personale in cui condivido con te le mie tre strategie chiave per stare meglio subito sia che tu sia all'interno di una relazione oppure no o magari la stai evitando proprio per evitare determinate situazioni e può essere estremamente difficile avere a che fare con una ricorrenza di questo tipo quando sei in questo tipo di dolore un dolore francamente diverso dagli altri e quindi per risparmiarti magari ulteriore sofferenza fisica emotiva e mentale ho creato per te uno speciale video in cui ti conduco passo a passo in queste tre strategie chiave ti aspetto dall'altra parte alla seconda parte di questo video voglio soltanto ricordarti la cosa basilare che sai già in realtà questa è la festa dell'amore dell'amore in sé per sé prima di tutto e soprattutto l'amore è amore per te amore per te stessa e infatti approfondirò nel video proprio questo passo concreto perché molto spesso non ci diamo il permesso di amarci la relazione più importante che hai nella tua vita anche che tu abbia il partner o la partner migliore del mondo è con te stessa e quante volte invece ci remiamo contro e ci forziamo ci spingiamo a fare cose che in realtà non ci fanno bene non ci nutrono sappiamo che non sono buone per noi in questo momento magari eppure continuiamo a farle hai bisogno di passi concreti per realizzare concretamente questo cambiamento questo ritornare a te stessa ti aspetto dall'altra parte nel mio video con le tre strategie chiave ti auguro un meraviglioso san valentino di amore per te stessa un abbraccio da Elena